Varelli, Vitale Lucrezia, Vitale in seconda posizione Meno uno per la Marani, interessante il tempo, interessante il tempo, vediamo la Marani all'arrivo, chi chiude in 44-39 Prima posizione per Gaia Lissandrona Ritornano sotto le atlete, il scia della Lissandrona a meno uno In più la mia numero 90, vediamo la che sta attaccando, esitazione nel sorpasso Arrivo, 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 arrivo 47-01 il tempo E ecco le partite Valentina, Duccolini, Paganello Duccolini, Paganello, Carrerra Eeeh, non siamo ancora sotto, ci trova all'interno, ma non è domani in scia La Carrerra rimane un po' dietro, vediamo se è, che pentaglio, chiude Passano, lascia la porta aperta, la Duccolini E passa Carrerra E Paganello E Paganello Eccolo le partite con la Berlini, Bologna, Bologna E poi la 401 7 da Pitelli 23 con Giorgia Minini in terza posizione Andatura controllata Andatura controllata Donna altissima la velocità di questa batteria Ci prova, ci prova Ci prova, ci prova Lampidelli Ma rimane lì Mantiene Prova a tagliare Lampidelli Vediamo sull'arrivo E ce la fa Ce la fa l'Ampidelli Ma il tempo alto 47-92 Camilla Benciato Si e lei A prendere la prima posizione Con Angela Timerto Timerto Fuori La lascia andare Camilla Benciato Timerto Bella azione dall'esterno Ora Camilla Benciato Deve Rientrare Non fare il buco Provare a ringraziarsi Al passaggio Dello Giro Ultimo giro Con Timerto Benciato Terzo posto Per l'Atleta Mezzalina 148 Prendendo chiù Nel gruppetto Erika Gresci Ancora Ma lì Bravet, bravet, bella rio Camilla e si parte di nuovo con De Palma Sorcionovo Sorcionovo in esterno Sorcionovo De Palma Sorcionovo De Palma e Bortolavo Sorcionovo De Palma Bortolavo ecco l'ultima curva dice Sorcionovo arrivo con 46 e 33